Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Selgin. A guardare i grafici che vengono fuori dalle voci di bilancio, notiamo che non sono così male perché vediamo fatturati, profitti lordi e utili netti in crescita ma anche i debiti sia correnti sia lungo termine. Spese di ricerca e sviluppo a parermi un po' troppo alte ma comunque tutto sommato non se la cava malissimo. Secondo me però il prezzo ora come ora è un po' troppo alto, penso che un prezzo d'acquisto sarebbe intorno ai 30 dollari per fare un buonissimo affare, ma diciamo che anche a 40 non sarebbe male. Ora come al solito se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, se vuoi che venga analizzata un'azienda devi prima condividere questo video, mettere il like al video e alla pagina, dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!